Salve, mi chiamo Marco Saverio Catena, ho 29 anni, sono nato a Roma e abito a Roma, sono alto 1,88 m e sono rappresentato dalla Cantera Management. Dunque, la mia formazione attoriale inizia quando avevo 22 anni, in un'accademia chiamata Cineteatro di Roma, e mi sono diplomato lì dopo tre anni di studio, e ho poi continuato la mia formazione tramite workshop, seminari, masterclass con casting directors, registi e vari coach, anche internazionali. E adesso mi sto formando nella palestra attoriale di Alessandro Prete. Dunque, le mie skills includono equitazione, box, calcio, basket, nuoto, moto, bici, macchina e anche macchine da corsa. Grazie della vostra cortesa attenzione, adesso vi mostro i miei profili. Grazie ancora della vostra attenzione e ci vediamo presto. Ciao!